Buona giornata! Oggi vi porto qui da questo luogo magico una fase di uno dei suoi personaggi più grandi, di uno delle persone che veramente qui è vissuto e ha dato la vita per questi posti, Tiziano Terzani, un grande giornalista, un grande scrittore che qui sull'Orsigna ha vissuto. Ormai nessuno ha più tempo per nulla, neppure di meravigliarsi, inorridirsi, commuoversi, innamorarsi, stare con se stessi. Le scuse per non fermarci a chiedere se questo cosere ci rende felici sono migliaia e se non ci sono siamo bravissimi a inventarle. Ci sono giorni nella vita in cui non succede niente, giorni che passano senza nulla da ricordare, senza lasciare una traccia, quasi non si fossero vissuti. A pensarci bene, di più, sono giorni così e solo quando il numero di quelli che ci restano si fa chiaramente più limitato, capita di chiedersi come sia stato possibile lasciarne passare distrattamente tantissimi. Oggi da questo luogo bellissimo e veramente magico per la tua formazione e per la tua crescita. Sì, perché qui ti potrai confrontare con una delle tue paure più grandi. O comunque godere di questo bellissimo verde tutto intorno. Qui in descrizione ti metto dov'è il posto per venire e godere di questa cosa. Questo perché non ti arrivi in fondo alla vita e ti chiedi come sia stato possibile lasciar passare distrattamente, distrattamente, tantissimi giorni. Quindi, oggi, per favore, te lo chiedo veramente in ginocchio, te lo chiedo in atteggiamento di preghiera, per favore, non lasciare corgere oggi così come gli altri. Lo so, è un giorno lavorativo, lo so tutto ciò che vuoi, ma come diceva Tiziano Terzani, le scuse per non fermarci a chiedere se questo correre ci rende felici, sono migliaia. E se non ci sono, siamo bravissimi a inventarle. Quindi, oggi, per favore, stai in ascolto. Stai in ascolto anche solo della natura, anche solo in un giardino di quello dei suoni della natura, del cane che sta passando di lì, del gatto, di qualsiasi cosa, stai in ascolto, riprendi connessione con te stesso. Basta poco, non c'è bisogno di grosse cose, non c'è bisogno di stare lì ore a meditare, a fare in atteggiamento. No, semplicemente oggi stai, almeno un quarto d'ora, lì in ascolto. Semplicemente anche guardando in giro, cioè non per forza meditazione, ma in ascolto. Quindi vedendo quello che c'è intorno, senza musica, quindi senza un libro, senza niente. Semplicemente concentrandoti su quello, se vedi un albero, vedendo tutte le foglie di quell'albero, vedendo come sono diverse, perché ogni foglia è diversa dall'altra. Quindi cerca di rientrare in connessione con la natura. Semplicemente così, semplicemente portando la tua attenzione consapevole. Quindi scegli di guardare gli alberi, di guardare il cielo, di guardare le nuvole, di guardare tutto ciò che c'è intorno a te in maniera consapevole. Fai questo esercizio e poi scrivimi nei commenti che cosa ne pensi, com'è stato, che poi magari ne parleremo in una prossima diretta. Oggi, Daniel Paci, per felicità e pace, ti saluta. Om Shanti 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 Buona giornata. Ciao!